Ecco, le ultime puntate di questo spazio dedicato proprio a ciò che l'elettronica, il web, le rete, l'internet cambieranno le nostre vite, si vede fevelate di editorie, in modo particolare di vecchie editorie con Giorgio Ianni, che è il semiolico esperto di nuove scomunicazioni, che è il quale chi c'è, proprio per fevelare in queste puntate, che hanno a battere insomma il mese di tecnologie che hanno furlato. Prima di tutto, mandi di nuovo a Giorgio Ianni, benvenuto ormai, tu sei di casa, ti partiamo al telcafe se tu hai svolto, poi si tratta al frigo, ti ha passato al... Dunque, editorie elettroniche, fevelate di vecchie editorie, delle problematiche che sta facendo in saltaforma, anche il web, io non sai, o pensi a me stesso, partisco, perché bisogna sempre partare l'esperienza personale, anche se non gli ecchi di ducche, io ad esempio ho le giornali, lo ammettono, le due, tre, quattro quotidianze al di sorrivi, perché è una questione anche di timpe, però sempre di più io voglio acerire le informazioni sulle reti, ecco, l'editoria elettronica, quindi di voi le web tv, i giornali elettronici, anche i blog, che tante svuote sono strainformate, tra l'altro anche il stesso Facebook, proprio da quello del sistema di condivisione, al dare possibilità di informazione a tante inti, ecco, il test news, e questo è l'importante, c'è rischio di cambiare attore per tanto che riguarda il mondo dell'erede, ma il mondo dell'informazione? Tutto, molto semplicemente, così mi è venuto in noi, ecco. No, ti spiego, ti spiego anche perché, perché facciamo l'esempio classico, che è quello dell'editoria della musica, cioè dell'industria discografica, con Napster, eravamo a fine 90, sono nati gli mp3 un po' prima, poi sono nati i sistemi di distribuzione peer to peer, cioè direttamente tra le persone, pari a pari, di un file che pesava 4 mega, cioè l'mp3 e la canzone, cosa è successo? Come abbiamo sempre detto nel corso di queste puntate, una logica, un pensiero vecchio, pensava di riuscire a controllare il fenomeno utilizzando strumenti vecchi e non si accorgeva che non è che stava cambiando una virgola, stava cambiando veramente tutto quanto sotto nel momento in cui l'oggetto culturale non è più su un supporto fisico, prima il vinile, poi il cd, ma diventava una cosa immateriale che io posso copiare senza perdere la qualità e quindi posso fare 100 copie, mi costa come farne un milione, cambia proprio i meccanismi dell'industria. Ecco, allora mi è tutto in crisi l'industria, però mi è tutto in crisi anche gli artisti in Timecast, il mondo è musica, non sai, o pensi ai concerti, tante volte anche qui cala un cd, ecco io, a me mi capita, potete dirlo, di chiamare Alc per cognossi anche un artista di Laviodi, mi senta Alc e dopo però mi capita, alle fine dei concerti comprare i discos, e che pensi che per l'artista sei il mio, oppure andare online presso il sito dell'artista o su iTunes, quindi sui luoghi di acquisto degli oggetti, in questo caso l'MP3, qua il problema qual è? La distinzione tra, se continuiamo a vedere quell'oggetto culturale come legato al suo supporto, ci vengono in mente dei, siamo fatti noi, dei novecento non di questi anni, ci viene in mente il fatto che sia impossibile scindere il possesso del bene dalla sua distribuzione, mentre stavo dicendo che abbiamo a che fare con degli oggetti culturali immateriali, quindi un conto è la tutela della proprietà intellettuale, il giusto riconoscimento per l'artista, ma il modello economico che devo io fare come azienda, che sono la Virgin, la Emmy, le case discografiche, per trovare sostentamento economico e per poter essere retribuito, non deve seguire le vecchie logiche, allora lì chi è che ha fatto la grande mossa? Non le case discografiche che continuavano a pensare in un modo vecchio, ma Apple, che si è inventata iTunes collegata con l'iPod, e iTunes è diventato il luogo in cui tu carichi i pezzi, poi là li compri a novantanove centesimi, cosa che le case discografiche non avrebbero mai fatto, questo era il novantanove, nel 2005 lo stesso problema è avvenuto per i film, per i video, e anche lì le major cinematografiche hanno provato a tutelare, a bloccare, e non si può bloccare questa cosa perché è una cosa liquida, tu per quante griglie metta giù ti sfugge quello che stai cercando di bloccare, e la stessa identica cosa la vediamo oggi per il settore dell'informazione. E' vero. Se tu pensi... Ecco, forse tanti ascoltatori saranno visati sui giornali al salto e sempre poi fur queste ci cerclate con scritte riproduzioni riservate, questa l'è un po' peata al discorso di rete. Sì, fa anche ridere perché i giornali stessi per anni hanno rubato bassamente le cose che trovavano in rete senza citare la fonte. Citare la fonte, la cultura scientifica in poi, è la base minima per la garanzia di un'etica della condivisione della conoscenza. Ma non fevelate di filmare su YouTube perché viene incostantemente roba a secca. Esatto, uno apporo perché la conoscenza deve muoversi, deve crescere, e come è sempre successo nel corso dell'umanità, che io leggo un libro e poi citando le cose che ho scritto scrivo il mio libro, parliamo per dire di libri. Sicuro. Però l'importante è citare la fonte, in questo modo accumulo, accresco la conoscenza complessiva, della specie umana, grazie alle biblioteche e così via. Cosa succede con i giornali? Che anche questi non hanno capito bene il modello, che era cambiato di retribuzione, di reddittività, hanno continuato a tenere ferma su loro, quindi bloccare gli accessi, credere agli abbonamenti, impedire di vedere le pagine. Una notizia di tre giorni fa è che il Times, che era andato dietro a un paywall, cioè un abbonamento, ci vuole un abbonamento per poter consultarlo online, ha praticamente vissuto un crollo delle visite e persino quelli che hanno fatto l'abbonamento al cartaceo non vanno più a vedere le cose online, perché dovrebbero entrare in un luogo chiuso, questo sarebbe Mardoc che ha provato ad applicare logiche vecchie alla distribuzione, non all'informazione, alla distribuzione dell'informazione. Beh, il New York Times, a parte che riguardava gli articoli, gli archivi, se non ti resta. Molta gente ha messo tutto quanto subito online, gli archivi sono completamente disponibili. La retribuzione non avviene lì, non è più la singola coppia che io devo comprare, la singola notizia, non devo chiudere l'informazione, devo trovare altri modi per fidelizzare il cliente, quindi per farlo venire sul sito, farlo interagire. La Repubblica e Corriere hanno messo delle paywall, puoi leggere 20 notizie, puoi leggere questo ma non quello, delle forme un po' più blande di chiusura e hanno subito anche loro dei tracolli notevolissimi. Parlo dell'online, perché il cartaceo è finito. Il cartaceo in Italia sta in vita per motivi che non c'entra niente con quante copie vendono, perché in realtà loro vivono indipendentemente dal numero di persone che compra il giornale. La stampa che è rimasta disponibile online, gratuitamente, ha rilevato, ha notato un altissimo numero di lettori tramite telefonini che si connettono direttamente, perché forse nel non bloccare o nel permettere comunque la fruizione della notizia stanno trovando congetture e confutazione, prove ed errori, stanno capendo anche loro, dopo la musica e dopo il cinema, quali sono i migliori modelli di sostentamento economico della loro industria. Beh, insomma, quei sono, scusa, se non fai una stampa, io se ti fai che lavoro chi in futuro, se non mangio, se cui mi fai, insomma, in sale due gratis. Beh, di sicuro non ti fa, cioè, tranne le operazioni di giornalismo diretto, di citizen journalism che può fare ognuno di noi, il problema è che c'è Google News, che hanno provato a bloccare, ma Google non fa niente di illegale, ovvero se uno cerca la notizia, l'informazione, io vado su Lanza, vado su Google News e l'informazione la trovo. Cos'è il giornale? Il giornale diventerà quasi sicuramente molto di più il luogo dell'opinione rispetto a quello che è adesso. Le notizie che io leggo oggi sul messaggero, mi capita spesso di pensare, ma è un messaggero vecchio questo qui, perché ho letto questa notizia due giorni fa o ieri su internet, ho avuto il tempo di approfondirla, di leggere, di leggere 50 opinioni su quella stessa notizia, ho visto i migliori blogger italiani che sono anche giornalisti di firma facilmente oppure autori di... Anzi, tanti giornalisti di firma hanno un blog che sono un grumblets, qualche volta venivano venduti articoli ai giornali e sono dei scambi o sono anche a livello mondiale, questo è stata un'evoluzione. Tu pensa che negli Stati Uniti questo è nato con la guerra del golfo fondamentalmente in cui le persone, Pete Burnett come si chiamava il giornalista, non è più importante che io sia sotto contratto con un giornale e scrivo gli articoli per lui, io sono un freelance, un professionista del giornalismo, vado dove mi serve, scrivo il mio articolo, poi ho un portatile, un telefonino connesso e ti spedisco direttamente l'articolo in sede oppure lo pubblico sul mio blog e tu che sei colire della sera vivi da me e mi dici senti, posso prendere il tuo articolo e lo pubblico anch'io sul mio giornale. I rapporti di esclusività che potevano funzionare dentro una gerarchia verticale molto rigida come era l'industria culturale, in questo caso fino alla rete, saltano nel momento in cui non è che cambia il messaggio, cambia tutto il contesto dentro cui il messaggio assume senso. Dopo essere interessanti a discutere di libri dall'Electronic Book, febbra in magari di poi tra i prossimi numeri di queste nostre trasmissioni, ma ci sono libri elettronici, io sono usato a lettera a terra, ecco, sai il libri alle clare, forse che sta lento il schermo di un computer, sia quel più grande, sia il mio netbook, sia un po' alle scomote che ti dice la verità. Certo, infatti lo schermo del computer non è il dispositivo migliore per leggere i libri ebook, nel senso di libri elettronici. Quello che tu stavi dicendo prima, cioè il fatto che Amazon, che non è una casa editrice, ma è un distributore di libri, Amazon ha creato lui il dispositivo che si chiama Kindle, Kindle, con la K, ed è un ebook reader, cioè un lettore di ebook. Noi facciamo confusione tra l'ebook, nel senso tra il dispositivo che legge il contenuto, e chiamiamo sia contenuto, sia il dispositivo, lo chiamiamo ebook, come chiamiamo libro, sia il contenuto del libro che è l'oggetto fisico di fatto di carta. Questi ebook reader, il Kindle e gli altri, sono di una tecnologia ben diversa, l'inchiostro elettronico. L'esempio classico qual è? Quello che tu sei in spiaggia sotto l'ombrellone e non potresti mai leggere lo schermo di un portatile, perché il tipo di luce che hai rende... Mentre questa tecnologia degli ebook reader, che è veramente nero su bianco, non sono neanche a colori, tipo il Kindle, sono a scala di grigi, però il contrasto che hanno, il tipo di risposte che hanno per i tuoi occhi, proprio per la retina, è quasi indifferente rispetto a nero su bianco della carta. Questo fa di loro degli oggetti specifici per leggere gli ebook. Tu dicevi, il mercato dell'ebook ha superato... Esatto, che è l'Amazon... ...del libro cartaceo, certo. Sicuramente, ti rendiamo presente un'altra cosa, è uscito l'e-pad di Apple, che fondamentalmente è un vassoio, solo che... Sì, sì, hai avuto occasione di provarlo. Come un iPhone grande, come un vassoio, ed è bellissimo lui. E sarà un altro supporto, però qual è il problema? Che questi ebook reader costavano 300-400 dollari o euro. Uscendo fuori questo e-pad di Apple, automaticamente questi oggetti hanno perso molto del loro prezzo e ora uno va per i negozi specializzati o nelle librerie e può comprare l'e-book reader a più o meno 100 euro. Sì, anche perché non ero l'i-pad e l'e-book reader, sono due robe completamente differenti a livello concettuale. Ecco, non sai, l'i-pad, a par che si stiamo in subite Disney's Batteries, a lei come ve le guide turistiche... Sì, è uno schermo. Ecco, ha un schermo a touch che tu metti, poi li smetti anche quasi te sacchetti, perché non è proprio così grande come calzamee. Poi se non sai, la viuda in una città, non tu sai se metropolitane di Tokyo, lì tu le sei sdute, anche chi di Okinawa, ecco. Se proprio tutto svolge. Sei connesso, infatti. Ecco, Giorgio, grazie per aver favellato editoria elettronica in Kiskas, se si usarini, insomma, anche te sostarii, se non la viuda le gazzette o il messaggero, ma diventerà anche il tipo di socialità differente. A che se non vi ne pensate? Ecco, voi a bevi un caffè o voi a bevi un tè, così o lei è il messaggero. Succede così. Viste comunque, quissà mai, ci calzerai il futuro. Preoccupasi, vuoi te che vedi agli ambienze. Mandi Giorgio Ianni. Ciao, mandi, buono.